L'atelier Versace ha aperto la quattro giorni dell'Haute Couture parigina, stregando la platea di buyers e giornalisti con una collezione elegantissima e romantica. Se l'ispirazione viene dagli anni 50, momento d'oro della sartoria, tutto è reinterpretato all'insegna dello stile della casa. Ospite d'onore Jennifer Lopez, che ha sfoggiato uno degli abiti più significativi della nuova collezione autunno 2014, metà pantalone e metà gonna. In passarella sfilano 31 abiti, la parola d'ordine è sartorialità, asimmetrica. Tutto è tagliato, il gioco è coprire e scoprire, in primo luogo con i lunghi spacchi centrali. Ma il lavoro più importante è quello sui tessuti, dalla seta trattata con silicone ai bustini impreziositi con microcristalli svaroschi. Le curve sono avvolte per creare forme scultore e i drappeggi creano vortici di stoffa. Grinta, modernità, dettagli come catene e fibbie di metallo dorato, l'alta moda, secondo Donatella Versace, si fa grafica e contemporanea. Grazie a tutti.